Ciao ragazze, la mia review di oggi sarà su questa palettina Face Perfect Palette di Deborah che è una palettina di correttori è facile capire a cosa servono perché proprio c'è scritto quindi c'è scritto che il viola corregge l'incarnato spento questo bel chiaro è per le imperfezioni del viso questo aranciato è per le occhiaie e il verde per coprire i rossori vedendola così sembra molto molto professionale come palette, giusto? c'è all'interno una specie di implicatore, quelli sfigati che non servono a niente è molto carina da vedere quando l'ho visto ho detto wow, molto professional quando poi ho provato il prodotto ho cambiato un po' idea ovvero la texture è tipo burro cioè per farvi capire la proviamo così capirete cosa vuol dire burro prendiamo il verde e lo mettiamo dove i rossori ma col verde neanche tanto si capisce prendiamo l'arancione e lo mettiamo dove ho le occhiaie se lo vedete praticamente non si vede neanche prendiamo il begiolino e lo mettiamo dove ho delle imperfezioni la consistenza è molto simile a quella del correttore della Essence però ancora più leggera quindi praticamente si sembra quasi che scivoli via dalle mani perché è veramente tipo burro copre pochissimo sono rimasta proprio male perché speravo cioè era una bellissima palettina una bellissima idea però il prodotto di per sé non vedo come possa aiutare una persona che ha dei problemi da correggere magari su una pelle perfetta ancora ancora un attimo illumina il viola illumina un attimo il verde però se una persona che ha delle occhiaie dei brufoli o qualcosa da coprire non è che faccia un grandissimo lavoro il prezzo della paletta è di 12 euro e il mio voto per questo prodotto è trullo di taburi 3 gli do 3 perché non fa quello che dovrebbe fare ovvero sul sito dice che dovrebbe aiutare a correggere tutte le imperfezioni l'aspetto è molto professionale però è molto deludente come qualità di per sé del prodotto ciao ragazze ciao